Buongiorno a tutti, qualità di sindaco di Sestriere, Sestriere è il comune più alto d'Italia e in questo difficile momento per il coronavirus vive le stesse problematiche di tutti i comuni. Diciamo che noi abbiamo chiuso una buona stagione invernale il 10 marzo con la chiusura degli impianti di risalita e da lì in poi abbiamo cercato di creare i presupposti affinché tutta la popolazione potesse rimanere in casa, potesse rimanere legata al territorio, i residenti chiaramente, i non residenti hanno dichiarato la loro presenza sul territorio ultimamente e siamo a circa 300 presenze sul territorio oltre i nostri normali residenti e abbiamo cercato poi di agevolare il tutto attraverso i canali della protezione civile del soccorso alpino che riescono a seguire le persone più bisognose, riescono a portare sia generi alimentari che farmaceutici a coloro che ne fanno richiesta. Al momento abbiamo due casi perché il terzo per fortuna si è risolto ieri di positività e credo veramente che in un comune che passa da 800 abitanti a 10-20 mila nel periodo turistico sia ancora una situazione accettabile. Oltre a questo abbiamo bonificato strade, piazze e tutte le isole ecologiche per cercare veramente di limitare il contagio e cerchiamo oggi come oggi in una situazione che è invernale a tutti i livelli, parliamo di temperatura esterna intorno ai meno 8 o meno 10 gradi con nevicate in corso, di vivere questa esperienza difficile per tutti nel miglior modo, cioè supportando coloro che ne hanno bisogno anche con le mascherine che sono state distribuite proprio ieri a tutti coloro che ne avessero bisogno in una prima quantità partendo dalle attività commerciali, la farmacia e tutti coloro che hanno tenuto aperto che voglio ringraziare perché grazie al loro lavoro e a quello dei volontari si è riusciti a tenere veramente un servizio positivo, un servizio ottimale. Oltre a loro vanno ringraziati i carabinieri e la polizia locale perché noi abbiamo avuto un controesodo da Torino-Milano sulle seconde case di Sestriere o comunque delle valli olimpiche che è stato contenuto, è stato tenuto nella giusta misura grazie all'intervento H24 di tutte queste persone che appartengono all'arma o alla polizia locale e che hanno svolto un lavoro esemplare negli ultimi due settimane. Ora guardiamo in positivo, ieri col primo caso che è stato mandato a casa praticamente guardiamo in positivo e cerchiamo veramente di vedere un futuro a questo difficile momento cercando di essere vicini a tutti coloro che soffrono e portando un messaggio di positività che vada veramente al di là di questi 2035 metri in cui noi viviamo e vada in tutte le città e porti il messaggio veramente positivo di un'Italia che ha bisogno di ripartire dopo questo triste evento. Un saluto a tutti dai 2035 e un arrivederci a presto cercando veramente di essere sempre positivi e portando avanti questa situazione che nel tempo rimarrà ma che ci deve anche servire per guardare positivo al futuro. Grazie a tutti, buon pomeriggio.